Sì, gli ha scippato la gola, gli ha chiesto pietà e non gliela ha data. Questa sconcertante frase è parte di un dialogo in cui si parlerebbe di un misterioso omicidio avvenuto in uno meglio specificato ospedale. È stata intercettata dai carabinieri nel corso dell'indagine in treccio, conclusa nel marzo del 2015 e confluita nella maxi-operazione denominata Mandamento Ionico e coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. I protagonisti della conversazione sarebbero padre, madre e figlio, tutti e tre di Africo, rispettivamente cognato, sorella e nipote di un soggetto di interesse investigativo dal quale avevano preso in prestito un'autovettura Golf per andare dalla Locri della casa circondariale di Catanzaro Siano per un colloquio con un prossimo congiunto. Il viaggio monitorato risale al 19 marzo del 2012. Terminato il colloquio in carcere, i tre percorrendo la statale 106 in direzione sud all'altezza di Soverato avrebbero riferito proprio di tale presunto omicidio. Il misterioso ciccio in questione sarebbe stato primo drogato e poi strangolato nel suo letto d'ospedale. Nel corso dello sconvolgente dialogo si sarebbe anche indicato il probabile autore dell'efferrato delitto.